Carissimi amici, ben trovati sul canale! Finalmente, dopo tanto tempo, è arrivato, con leggero ritardo, il nuovo box di Woodbox. Per chi non conoscesse l'azienda, vi lascio anche i video registrati in precedenza su Woodbox si occupa di prodotti nerd e potete trovarla alla pagina web woodbox.co è un'azienda francese che potete trovare anche sulla pagina Instagram Woodbox. Come vi dicevo, siamo arrivati al terzo box che andiamo subito a scoprire. Prima di vedere il contenuto, ringrazio infinitamente sempre Woodbox per la fiducia e dimostratemi, questa box potete trovarla sul sito www.woodbox.co Il prezzo del box è di $39,99 ma utilizzando il codice sconto Potterbook, hashtag 1, avrete diritto a un 10% di sconto. Ovviamente anche le box precedenti sono sempre presenti e acquistabili e vi invito a fare un giro sul loro sito per vedere cos'hanno, perché non troverete soltanto queste box ma tanti altri oggetti non solo a tema Harry Potter. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere e andiamo a scoprire il contenuto. Box si presenta sempre allo stesso modo, questa scatola nera con all'interno delle immagini dedicate proprio ad Harry Potter. Al suo interno, partirei da questo, troviamo il nuovo pop Patronus di Albus Silente, la Fenice Fanny. di Albus Silente. Questa volta ci hanno messo, ci stanno preparando per il Natale, il periodo freddo, il periodo di tè. Questa tazza che è veramente bella. con il cappello parlante. Credo ci siano altre tazze da quello che vedo qui. Ah no! Adesso che sto leggendo, sono delle tazze fantastiche. In pratica, versando del liquido caldo, la tazza rivelerà la propria casa. Questo vedrò di farvelo vedere prossimamente sulla mia pagina Instagram. proseguendo, un bel paio di pantofole con sorta di mappa del malandrino e stem di Hogwarts. Carinissime. Vi ricordo che tutti i prodotti Woodbox sono ufficiali Wizarding World e, come vedete, sono marchiati. Proseguiamo. Al suo interno troviamo una mappa del malandrino che, da quello che leggo, è un magnetic notebook. Quindi parliamo di una sorta di agenda magnetica. La andiamo a scoprire subito. Vediamo un po' come funziona. Spero di non rovinarla con questo scotch. Aprendo la parte sinistra, l'agenda si presenta così, come mappa del malandrino e, al suo interno, un normalissimo quaderno con le impronte. Ed è, come vi dicevo, magnetica. E, sul retro, I solemnly swear that I'm up to no good. Dopo la mappa del malandrino, agenda magnetica, andiamo a scoprire l'ultimo oggetto contenuto nel box. E, come sempre, Woodbox ci inserisce una nuova maglietta che è davvero molto inutile per me. E questa qui è davvero carissima perché è la maglietta con le varie case. La maglia che indosso al momento è quella della box precedente, quindi direi di aggiornare il tutto e indossare quella nuova. Ed eccoci qua, tornati con la maglia indossata e, ricapitolando, vi faccio rivedere tutto il contenuto. È la box collector numero 3, pop nuovo del padrono albussi albussilente, tazza del cappello parlante cambia colore inserendo un liquido caldo, mappa del malandrino agenda magnetica, ciabatte invernali, mappa del malandrino e simbolo di Hogwarts, e la maglia delle case. Il tutto, vi ripeto, prezzo di 39 euro e 99, ma utilizzando il codice sconto Potterbook hashtag 1 avrete diritto al 10% di sconto. Anche per oggi siamo arrivati alla conclusione di questo video. Ringrazio infinitamente nuovamente Woodbox per la fiducia e per avermi inviato questa bellissima box. Vi ricordo sempre che potete seguirmi alla pagina Instagram ThePotterBook85, sul canale YouTube se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pollicione in su, commentate e iscrivetevi al canale. Vi ricordo inoltre di andare a seguire Woodbox su Instagram, basta inserire il nome Woodbox e andare ad esplorare il loro sito alla pagina web www.woodbox.co. Per il momento è tutto, ci vediamo alla prossima!